Ciao a tutti, sono Umberto Miletto e sono qui per illustrarvi dei nuovi esercizi da eseguire con i kettlebell. Questi esercizi sono stati creati per rispondere alla mail di alcuni colleghi che mi chiedevano espressamente se era possibile con questi strumenti rinforzare e prevenire gli infortuni all'articolazione della spalla. La mia risposta è stata sì e tra breve vedrete gli esercizi particolari che si possono eseguire con questi strumenti unici e ancora poco sviluppati qua in Italia. Io rimango a disposizione alla mia mail per qualsiasi vostra domanda e vi auguro la migliore visione di questi video. Grazie a tutti per l'attenzione.